La seduta è ripresa come unico risultato della votazione per l'elezione di un vicepresidente. Presenti e votanti 471, astenuti nessuno, hanno ottenuto voti Mandelli 248, Calabria 120, Baldelli 13, Presti Giacomo 8, voti dispersi 37, schede bianche 40, schede nulle 5. Proclamo eletto vicepresidente il deputato Andrea Mandelli. Gli auguri al collega Mandelli anche da parte della presidenza di turno. Comunico che...